Il processo d'appello relativo all'inchiesta Anteo sul traffico di droga nella provincia di Catanzaro ha portato a nove sentenze, pene rideterminate per 11 imputati e due assoluzioni trasformate in condanne. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta della Direzione di Stretto all'Antimafia di riconoscere l'associazione criminale mantenendo quanto stabilito in primo grado, ossia la non esistenza di tale reato. Le PM della DDA Stefania Paparazzo e Deborah Rizzo avevano contestato la sentenza di primo grado sostenendo che le prove dimostrassero l'esistenza dell'associazione e i ruoli specifici degli imputati al suo interno evidenziando una connessione durevole tra promotori e partecipanti. La pubblica accusa aveva quindi chiesto di aumentare le pene per 16 imputati e trasformare quattro assoluzioni in condanne ma la Corte ha deciso diversamente. Nella decisione di Appello la Corte presieduta da Loredana De Franco con all'attere Giovanna Mastroianni e Carmela Tedesco ha ridotto o confermato le pene di alcuni imputati. Tra le pene modificate quella di Damiano Fabiano è stata ridotta a nove anni, due mesi e venti giorni di reclusione e una multa di 26.733 euro rispetto ai dodici anni, dieci mesi e 29.733 euro del primo grado. Per Giuseppe Fabiano la condanne ora di sette anni, cinque mesi e dieci giorni con 23.533 euro di multa. Per gli altri imputati come Francesco Fabiano e Daniele Cortese sono state apportate riduzioni simili. Alcuni imputati precedentemente assolti in primo grado sono stati condannati. Bruno Procopio ha ricevuto una condanna di quattro anni e una multa di 17.330 euro mentre Anthony Salvatore Catanzariti è stato condannato a cinque mesi e 800 euro di multa. Per altri imputati come Raffaele Andreacchio, Fortunato De Masi e Michele Matarese sono state confermate le pene del primo grado.